Ciao, buonasera. Disponibili e indisponibili e che cosa dobbiamo aspettarci da questa partita? Ma, indisponibili sono drolete, no, no, drolete disponibile, credo solo drolete, abbiamo recuperato gli altri. Compresi quelli, tra virgolette, puniti? Sì, la punizione è stata nell'imminente, solamente capire che ci sono delle regole, anche non scritte, a volte che vanno rispettate per il bene del gruppo. Quindi, insomma, questo periodo serve per conoscerci, per capirci, soprattutto per intraprendere un cammino comune, fatto ovviamente di comportamenti, di rispetti reciproci. E quindi si passa anche da queste situazioni. Che partita attenderci? Sì, allora, innanzitutto voglia di vincere, perché abbiamo voglia di passare il turno e di andare avanti. Credo che abbiamo fatto un percorso in crescita, dalle prime uscite, ci conosciamo sempre di più, stiamo ovviamente migliorando sia la condizione fisica, atletica, sia proprio l'essere squadra. E arriva una partita impegnativa, perché l'Alessandria è un'ottima squadra, con tantissimi calciatori che lo scorso anno giocavano in Serie B. Penso a Gonzalez, Piccolo, Cazzola, insomma, quindi solo alcuni nomi. Quindi sarà un test assolutamente impegnativo, però insomma vogliamo vincere, quindi siamo molto carichi. Abbiamo visto due situazioni di atteggiamento di modulo, quella di domani sera, è svelabile? Sì, sì, no, no, vi dico anche la formazione, quindi... No, no, giochiamo con un 4-3-3, la formazione è Rosati, Imparato, Alassan, Ricci, Volta, Belmonte... No, vabbè, dopo hanno le magliette ovviamente personalizzate, quindi i numeri saranno stravolti. Volta a Belmonte, poi ci sarà Buonaiuto, Zebli, Guberti, Di Carmine e l'unico dubbio, tra virgolette, è Brighi o Gios? Legato sul ritmo? Ma no, semplicemente che Matteo sta bene, vorrebbe essere della partita, oggi insomma lo valutiamo nella rifinitura, in base alle sensazioni che abbiamo, così non voglio rischiare giocatori, quindi non voglio perderlo, magari insomma per una voglia di vederlo assolutamente in campo. Si è allenato in questi giorni, quindi sta bene, però in questo momento della stagione non bisogna avere fretta, quindi ci prendiamo ancora qualche ora, però ecco, se non c'è Brighi ci sarà Gios. Il fatto che c'è Alassan, fa pensare che vuoi di più propositività sulla fascia sinistra rispetto alla ragazza? Ma no, è che Chiosa ho avuto il piacere di allenarlo tutti i giorni in questo ritiro, quindi so quello che ci può dare e ha fatto sempre molto bene, quindi diciamo che lo conosco bene. Alassan purtroppo ce l'abbiamo avuto un po' a singhiozzi e quindi voglio un po' vederlo in campo, perché ha avuto poca continuità con la squadra e quindi voglio vedere anche in campo con la squadra in partite vere il suo rendimento. Senti, prima hai parlato l'obiettivo di qualificarsi, ma allo stesso tempo ci stai dicendo che comunque questa partita ti è utile per perdere le valutazioni sul giocatore per la stagione. Ti chiedo allora la scelta di di Carmine come punta Augusto di Bianchi e per una valutazione o perché in questo momento pensi che sia più primitiva di Bianchi? No, perché credo che ovviamente ci troviamo a far fronte delle scelte e quindi le scelte sono fatte, come dicevi prima, da una parte per capire fino in fondo il materiale che ho a disposizione, quindi riuscire a capire come completare questa rosa. Dall'altra parte per cercare di vincere, perché a me piace vincere, non voglio rimandare, quindi questo turno di Coppa lo voglio superare. La squadra che va in campo è quella che mettendo insieme più idee è quella che mi dà più garanzie di poter vincere questa gara. Di Carmine non è una valutazione? No, di Carmine è una scelta. L'ho detto dall'inizio, di Carmine non si muove, gliel'ho detto a lui, l'ho detto a voi in conferenza stampa, l'ho ribadito in ritiro. Anzi, Samu sta con noi, farà molto bene per il Perugio quest'anno, che è un attaccante forte, importante, piace molto, si fa voler bene dai compagni perché si sacrifica, è bravo in zona gol, sa giocare a calcio. Quindi è stimato molto dallo staff tecnico, ma anche dallo spogliatoio. Anche domande al Ministro? Grazie. Ero curioso di capire questo ritardo di Piagli, che era partito in polla, adesso rimane un pochettino indietro, se secondo te è un problema strutturale di modulo caratteriale, di preparazione, o semplicemente è il momento che chiede questo e poi ci saranno altri momenti in cui eventualmente verrà chiesto qualcosa. No, è una scelta tecnica fatta in questo momento, non è una bocciatura, come ho detto l'altra sera. Rolando ha sempre lavorato benissimo in tutto il ritiro, anzi è stato quello che forse ha lavorato di più, si è presentato nelle migliori condizioni, è un professionista esemplare e poi ovviamente c'è un percorso fatto di squadra e delle scelte tecniche che l'allenatore deve fare, quindi non è una bocciatura, oggi è una scelta e poi c'è tempo per poter sovvertire tutto quanto. Come ho detto l'altra sera, non mi piace che ci siano giocatori che si sentono delle alternative o delle riserve. Mi piace che abbiano la giusta presunzione di poter giocare titolari. Si senti, volevo sapere, invece nel centrocampo a tre sarà Ricci a giocare vertice basso, oppure visto che nel primo tempo ha dato precisi indicazioni, pur essendo una mezzara sa giocare veramente in quel ruolo? No, giocare a Ricci lì, ma Ricci l'ha fatto spessissimo, perché sia un giocatore che sa fare secondo me tutti i ruoli del centrocampo, sia a due che a tre, da mezzala e da mediano, ma credo che le sue caratteristiche siano associabili al classico regista, al play, insomma, come lo vogliamo chiamare, è un ragazzo molto ordinato, ha grandi qualità di calcio, di palleggio, è molto intelligente, quindi ci dà la possibilità anche di variare la costruzione del gioco. Credo molto in lui, quindi giocherà lì, ma è un ruolo che possono ricoprire anche altri giocatori, come lui può ricoprire anche altri ruoli del centrocampo, quindi abbiamo giocatori molto duttili. Quindi se anche ci fossero brevi per completare la domanda, giocare a Ricci? Sì, sì, sì. Ministro, secondo te la scuola quant'autonomi ha percentualmente? Ma credo che possiamo giocare sui 70 minuti un buon ritmo, perché è vero che non ci siamo ancora arrivati, ma non ci siamo arrivati un po' anche per scelta, perché venivamo da settimane di lavoro intenso, prima delle amichevole abbiamo fatto doppie sedute, anche da un punto di vista fisico molto intense, quindi era normale che non avessimo una tenuta e un minutaggio importante. Questa settimana abbiamo lavorato molto fino a mercoledì, con la partita della Spalla compresa, da giovedì e venerdì ovviamente il lavoro è stato di ripresa e un po' più alla ricerca della brillantezza, anche in vista di questa partita, che ci teniamo molto, cioè per me non è Coppa Italia, è una gara da vincere, quindi l'abbiamo preparata bene, siamo molto carichi, vogliosi, 8 giocatori almeno di loro faranno speriamo solo 90 minuti, abbiamo 3 cambi a disposizione, li gestiremo man mano che la partita ci darà indicazioni, però penso che terremo bene tutta la gara, come copertura ad ottimo ritmo, credo sui 70-75 minuti ci siamo. Come dicevo prima siamo in crescita, quindi ho visto una squadra che sta trovando una quadratura importante in fase di non possesso palla, e sta trovando anche un discreto palleggio, ecco, dobbiamo migliorare questo, soprattutto oltre alla qualità del gioco anche il finalizzare. Nella partita con la Spalla mi è piaciuta molto la ricerca della palla a terra, non mi ha fatto mai lanci, abbiamo sempre cercato di uscire giocando e abbiamo creato anche diverse occasioni, specie nel primo tempo, quindi dobbiamo partire da quello lì, insomma da quell'atteggiamento lì molto propositivo, cercare di attaccare sempre in avanti, di essere noi ad imporre il nostro gioco, e quando troviamo i momenti della partita in cui c'è da soffrire, si soffre in 11, e quindi insomma gli attaccanti saranno i primi a darci una mano. Grosso modo la formazione, così come nella video, le ricalcherà in qualche modo quelle della passata stagione, sente di avere un lavoro societario importante alle spalle, e poi, visto che parlando di società, fino anche all'anno scorso si è praticamente, Perugia ha crescito in casa, diversi giovani interessanti. Siamo alle soglie della seconda parte del ritiro, ritiene che qualcuno in corso di stagione prossima tra questi nuovi giovani possa fare il salto, e l'ultimissima curiosità, differenze di aspettative, motivazione del ritornare a Perugia da giovane, seppur, diciamo così, di ritorno da un'esperienza in ascesa, possiamo detenirla dalla Lega Pro, però comunque giovane allenatore a Perugia, rispetto invece a quando è venuto da giovane calciatore, ancorché con uno scollo di gol alle spalle dalle serie minori. Differenze di aspettative, soprattutto in rapporto al gruppo questa volta, non più individualmente. Allora, andiamo per una alla volta. Allora, la prima era il discorso societario, la programmazione. Sì, quando ci siamo incontrati poi quest'estate per stilare un po' l'organico, ci siamo trovati d'accordo soprattutto sul puntare sul gruppo, una forza di gruppo. È un gruppo molto coeso, fatto da giocatori importanti, quindi mi sembrava assolutamente stupido smantellare un gruppo di uomini e giocatori forti. Quindi ho cercato moltissimo di partire dallo stesso gruppo, cercando ovviamente di tirar fuori da loro le motivazioni giuste, che credo che siano fondamentali per qualsiasi percorso. e la seconda domanda era, perdonami, sono rimasto... Sui giovani? Sui giovani, che possa essere... Ma i giovani sì, i nostri sono Mancini, sono Zebli, credo che sono dei giocatori che possono far benissimo in questo campionato e possono emergere. Hanno una strada davanti, tutta da vivere. Poi dipende sempre da loro, perché le qualità... Sì, assolutamente. Ma sì, in queste due amichevoli ho fatto giocare molti Primavera, perché credo che il vivaio sia fondamentale per una società. Noi abbiamo tanti ragazzi bravi, possono migliorare e crescere già solo allenandosi con noi. Poi se ci sarà lungo il nostro cammino la necessità o la bravura di qualche ragazzo che si mette in evidenza nel suo percorso con i giovanili, non staremmo certo a farci scrupolo davanti alla carta d'identità. Anzi, credo che ci sono dei ragazzi bravi e giusto dagli spazi e poterli valorizzare. La terza domanda era sulla differenza. Io sono arrivato qui da ragazzo. Ero un ragazzo sconosciutissimo, venivo tra virgolette dalla giungla, quindi non avevo nessun tipo di responsabilità se non quella di provare a cercarmi di ritagliare un ruolo, uno spazio in mezzo a tanti campioni. Oggi arrivo da giovane allenatore, ma cambio nella responsabilità, perché sono alla guida di una squadra e di una società importante, con una storia importante. Sono tornato da uomo, ripeto, da giovane allenatore, però da un uomo che ha grandi responsabilità e che è contento di averle. Perché, come ho detto nel giorno della presentazione, il fatto di essere stato scelto da questa società mi ha reso orgoglioso, perché c'erano tanti allenatori più esperti di me, sicuramente molti di loro anche più affidabili come excursus, come percorso alle spalle. La società ha creduto in me. Questa è una bellissima responsabilità che voglio vivermi veramente con grande entusiasmo, consapevole ovviamente di dover crescere tantissimo con questa società e con questo gruppo di ragazzi. Però penso che si cresca attraverso il lavoro, è quello che non mi ha mai preoccupato. Mi domanda, dato che abbiamo parlato di giovani e abbiamo parlato anche di centri avanti, Mirbal ha avuto un contratto abbastanza importante, il suo primo contratto da professionista con Perugia, però per tutta una serie di motivi fino ad oggi o non l'abbiamo visto o se ne è parlato pochissimo. Dato che è stato inglobato nella rossa, volevo capire secondo te le caratteristiche di questo ragazzo e soprattutto se è pronto per giocare a questi livelli, perché secondo Bisoli l'anno scorso aveva ancora tanta strada da guardare. Purtroppo non posso rispondere a questa domanda, perché Mirbal si è radunato con la squadra, è venuto in ritiro ma praticamente non si è mai allenato, ha avuto un problema nel viaggio legato proprio a un discorso suo, è arrivato qui, era molto spossato, gli abbiamo fatto delle analisi e aveva bisogno di riposare alcuni giorni, quindi abbiamo fatto un percorso di rieducazione in maniera molto soft per lui, quindi è venuto in ritiro dove ha lavorato praticamente quasi esclusivamente con lo staff medico, non ha mai svolto un allenamento vero e proprio con la squadra, quindi mi è difficile poterlo giudicare, ha ripreso da quando siamo tornati giù qualche giorno di allenamento con la primavera, se ci sarà l'occasione di farlo tornare a lavorare con noi mi farà piacere, però ad oggi ovviamente la valutazione che posso farle è molto approssimativa, quindi non posso entrare nel merito né delle sue proiezioni future né di quello che può essere una sua collocazione tecnico-tattica.